E sempre Cesenatico aveva fatto da sfondo a una singolare intervista a Dario Po da parte di alcuni rom e sinti bolognesi. Al centro dell'appuntamento una storia riscoperta del premio Nobel, quella di un pugile tedesco ucciso durante il nazismo, in servizio di Matteo Merli. Una cosa che manca, anche da parte vostra, è la cultura della vostra vita, della vostra gente. Dovete con orgoglio riprendere, studiare anche le cose negative. L'impegno per la cultura, anzi le culture, nessuna esclusa. Dario Fo la ribadiva a metà settembre a Cesenatico, intervistato da un gruppo di rom e sinti per la web tv del comune di Bologna. Al centro dell'incontro la storia riscoperta anche grazie al premio Nobel di Johan Trollmann, pugile tedesco di etnia sinti, campione dei pesi medi, perseguitato dal nazismo. Sportivo carismatico, simbolo di riscatto e resistenza, ucciso in un campo di concentramento perché si rifiutò di perdere contro un capò. Una figura vicina allo spirito giullare di Dario Fo, costretto a combattere fermo al centro del ring, Trollmann si presentò infatti tinto di biondo, viso e corpo infarinato per schernire il modello ariano. L'ironia era quello che feriva di più, la satira, sempre è stato, cioè un uomo di una cultura alta. Il video dell'intervista è stato proiettato a Bologna pochi giorni prima della morte di Dario Fo presentando un progetto contro le discriminazioni che vede coinvolti i rom e i sinti in tre ambiti. Quello della comunicazione, quello dell'abitare e dell'inserimento scolastico. Sono otto persone coinvolte, stanno svolgendo dei tirocini all'interno di varie realtà del territorio. E l'incontro con Dario Fo ha lasciato molto ai ragazzi, l'impressione indelebile di un grande intellettuale da cui hanno raccolto l'appello attraverso il loro impegno a far conoscere di più e meglio la loro cultura. Ed è bello quando ti avvicina una persona che non fa differenze, ma siamo legati in un stesso popolo che è l'uomo. È una grande opportunità di fare esperimenti, di fare conoscere anche il popolo stesso italiano che i rom si possono integrare.